Via delle Baleniere, a Ostia, è stata teatro di una tragedia annunciata, l'ennesima drammatica morte sul lavoro. Ancora una volta un operaio ha perso la vita, precipitando nel vuoto durante lo svolgimento delle sue mansioni. Dalle immagini che abbiamo girato sul posto a pochi minuti dal terribile incidente, si può notare il berricello che l'addetto stava utilizzando. Ma i numeri parlano chiaro, gli incidenti mortali si susseguono a ritmi impressionanti. Sotto accusa è l'intero sistema dei controlli, con pochi ispettori e un numero di imprese edili che cresce di giorno in giorno. Ieri purtroppo l'ennesimo dramma, è morto il nono operaio edile registrato negli ultimi mesi dell'anno 2021 all'inizio di quest'anno. È una carnificina, abbiamo bisogno di più controlli, abbiamo bisogno di investimenti strutturali sui controlli e l'edilizia ha registrato nel 2021 un'accelerata che è stata conseguenza dell'iniezione pubblica sull'iniziativa privata, quindi i bonus, i vari bonus. Ci sono tutti gli elementi per immaginare che i problemi strutturali delle imprese di questo settore siano rigadute anche sul evento drammatico di ieri. Oggi gli ispettori del lavoro sono assolutamente insufficienti rispetto alla miriade di cantieri che si sono aperti negli ultimi mesi. Purtroppo proprio Roma, la capitale, ha un triste primato di morti e infortuni sul lavoro. Secondo osservatori indipendenti, Roma da sola ha un indice molto alto. Dal punto di vista del rapporto tra persone al lavoro e eventi infortunistici c'è una mancanza di monitoraggio su questo tipo. La gran parte degli infortuni sono connessi alla cattiva organizzazione del lavoro in cantiere e alla nascita di migliaia di imprese prive di dipendenti che quindi subappartano a squadre di ottimisti. Il problema vero però è che mancano 200 mila lavoratori tra operai e tecnici e quindi gli attuali lavoratori sono tra virgolette chiamati, per non dire sfruttati, a lavorare anche 10 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per questo serve maggior presidio del territorio, ispettorato ma non solo, ma anche la possibilità che il sindacato e quindi le organizzazioni dei lavoratori possano entrare in cantiere premiando e aiutando le imprese serie, ma anche mettendo fuori mercato le tante imprese improvvisate che con questo boom di incentivi privati di PNR sono nate come funghi.